Ha riscosso successo, al di là di ogni più rosea aspettativa, il raduno del mare dell'History Track Team che si è svolto sabato e domenica scorsi a Montesifano nel parcheggio antistante il Palacongressi. Oltre 100 camion in esposizione arrivati da tutta Italia non solo, tanti gli allestimenti pensati e realizzati. All'esposizione si sono aggiunti momenti di intrattenimento come i sexy track wash e gli stand gastronomici, una prima edizione che ha pienamente soddisfatto gli organizzatori. Stiamo rimanendo sempre più colpiti dalle persone che stanno arrivando, anche personaggi inaspettati, con camion nuovissimi da presentare qua. Siamo veramente molto contenti. La particolarità di questo evento è che è il primo in riva al mare in Abruzzo, io penso il primo in riva al mare in tutta Italia ed è stato proprio il mare che ha fatto da richiamo per tanti appassionati. Abbiamo più di 80 camion provenienti dal sud, dal centro, dal nord Italia e da Zurigo, una donna da Zurigo. Pieno pieno di spettatori, visitatori che non hanno niente a che vedere e fare con il camion. Ho deciso di creare questo evento e farlo crescere il più possibile. Rinnovo l'invito all'anno prossimo.